un ospite d'eccezione che questa sera è riuscita a liberarsi per noi perché era impegnatissima con un montaggio e non ci credevamo quando ci ha confermato la sua presenza, ora è qui in sala con noi e inviterei sul palco Valentina Carnelutti più forte, anche i tuoi tacchi però, buonasera Valentina, buonasera, grazie, grazie per essere venuta allora adesso, siccome ho perso un po' di tempo a rialzarmi, adesso tu fai finta di risalire, no scherzo mentre io leggo qualcosa di te, ti vuoi sedere? Oddio, ok allora Valentina è un'attrice allora vediamo poi io scendo da qui e non mi rialzo più, allora Valentina è un'attrice, sceneggiatrice e doppiatrice al cinema ha lavorato in film di registi nazionali e internazionali tra i quali Marco Tullio Giordana Giordana in La Meglio Gioventù, Giovanni Veronesi nel Il Mio West, Antonello Grimaldi in Caos Calmo e Paolo Virzi in Tutta la Vita Davanti, oltre ad altri che non ho inserito nell'elenco, buonasera e io volevo dire anche che il contatto con Valentina è stato reso possibile dal curatore del Molise Cinema che è Federico Pomie che è stato con noi in entrambe le rassegne che hanno anticipato la nona edizione del Festival Pontino del Cortometraggio che sono effetti collaterali aspettando il festival per quanto riguarda la sezione di video e arte allora tu sei figlia d'arte, tuo padre è un attore, un regista, hai calcato le scene fin da giovanissima se non sbaglio 16 anni e ti volevo chiedere come viene trasmesso l'amore per quest'arte cioè sembra qualcosa di veramente molto contagioso? Buonasera dunque la domanda è come viene trasmesso l'amore? Io non lo so sicuramente la frequentazione con le cose le rende più comprensibili e desiderabili o meno desiderabili ma diciamo la frequentazione con le cose aiuta a sceglierle poi credo che ci sia qualcosa di individuale io devo ringraziare tutti e due i miei genitori per quello che sono oggi e sicuramente devo ringraziare mio padre per qualcosa della sua arte che io ho condiviso con lui fin da piccola ho una sorella che fa l'architetto quindi voglio dire non posso dire che sia genetico anzi diciamo che mio padre ha avuto la generosità di dirmi a un certo punto lascia perdere e questo credo che sia stata la cosa per la quale gli sono più grata nel senso che mi ha dato la possibilità che questo lavoro fosse una mia scelta e non una conseguenza a un certo punto mi ha detto proprio no secondo me fai una cazzata è difficile poi lui ha avuto una vita complicata e quindi non è stato facile per lui continuare a fare il suo lavoro per ragioni personali e io tutto questo l'ho visto e lui lo sottolineava in maniera quasi ridondante però così ho potuto definire una mia scelta e una mia strada in qualche modo che mi permette di accogliere anche tutto l'insegnamento ricevuto Valentina tu hai lavorato anche per la televisione in produzione come il maresciallo Rocca, Un posto al sole RIS, Numero 5, Delitti Imperfetti, Amanda Knox, Squadra Antimafia e potrei continuare ma quanto è diverso il cinema dalla televisione e quale delle due forme d'arte te la senti più tua? Allora, diciamo forme d'arte la televisione è uno strumento diabolico e non posso assolutamente dire in questo momento che sia una forma d'arte, purtroppo non so neanche se lo sia mai stato detto questo è stato, insomma, adesso senza fare la storia della televisione di quanto sia stata utile in certi momenti eccetera eccetera ogni tanto ci lavoro hai detto e potrei dirne tante altre te lo dissi anche prima per fortuna no nel senso che le cose che ho fatto sono quelle ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio però quello che posso dire è che cerco di farlo bene prima lei mi ha detto le domande che mi avrebbe fatto quindi un po' ci ho pensato non hai guardato? ce l'ha data il foglietto tu non l'hai guardato e comunque no mi chiedevo che cosa posso dire al riguardo posso dire che cerco di far bene il mio mestiere allora mettiamo da parte la parola arte per un momento e parliamo magari di artigianato di pratica di lavoro questo anche è un lavoro cioè è un lavoro in cui ci si sveglia la mattina alle 5 si va a letto presto se mangi il formaggio sei gonfio e magari ti serve o magari no il collo così dice qualcosa il collo così dice qualcos'altro si imparano accenti, dialetti si studia o almeno a me piace viverlo così e la televisione è un'occasione feroce per praticare tutto questo soprattutto quando si fanno delle cose lunghe mi è capitato per la prima volta in vita mia di fare una cosa molto lunga che è stata questa squadra antimafia che andrà in onda in autunno e stando 7-8 mesi sullo stesso set quindi non avendo quello stupore quotidiano di quando si fa un film di 5, 7, 8 settimane in cui tutto è nuovo ma invece avendo quella cosa terrificante di rivedere sempre le stesse cose e di ripetere cioè di avere sul copione le stesse battute per cui tu devi inventarti un modo perché siano diverse allora una volta la tagli una volta la cambia una volta la dici con gli occhi però tutto questo è un esercizio straordinario che se fatto con amore credo che permetta anche di fare degli scatti in avanti rispetto a quello che poi uno considera essere invece la propria arte che va magari in delle direzioni molto più ignote e meno raggiungibili al grande pubblico di cui si parla e c'è una cosa che mi preme dire ancora al riguardo in realtà vedi era la domanda che mi piaceva di meno ma è quella che mi scatena più cose ed è che il tentativo è quello sempre almeno per me nel mio lavoro di raccontare qualche cosa che migliori la vita di chi la guarda questa cosa allora è il motivo per cui mi fa schifo la televisione perché si vedono delle cose così brutte che inevitabilmente si finisce per considerare questa bruttezza come qualcosa di normale e ci si dimentica della bellezza è il motivo per cui bisognerebbe vedere solo film belli vedere cose belle, oggetti belli mostre, tramonti, paesi e allora nel piccolo che ci viene dato come attori, come interpreti nel piccolino di quella puntata di quel pezzettino di quella puntata cercare di mettere un po' di umanità perché magari quelle quattro persone che trovano una risonanza in quell'umanità magari quelle quattro si possono sentire un pochino meglio si possono riconoscere un po' ecco questo quale consiglio ti senti di dar loro per affrontare al meglio il percorso che hanno deciso di intraprendere? il percorso come registi? il regista da solo non fa niente ma proprio non fa niente ha bisogno di tutto ha bisogno degli attori ha bisogno di un posto ha bisogno di qualcuno che sia lì a controllare che le cose funzionino ha bisogno di abiti di scene ha bisogno di dar da mangiare ai suoi attori come se fossero dei figli ha bisogno di luci di un operatore di un fonico e anche quando decidesse di lavorare con una troupe ridotta e con due persone o tre soltanto a quelle tre chiede di fare il lavoro di cento e quindi comunque ha bisogno di avere dei rapporti sani e quindi di essere onesto con se stesso prima di tutto di avere un po' chiare le idee su quello che vuole e di essere un po' elastico anche di sapere anche ascoltare di avere un senso del tempo e credo che per fare tutto questo si debba vivere onestamente studiare un sacco grazie grazie a Mario adesso entriamo nel vivo della nostra ah giusto Mary mi ricorda una cosa molto importante che la Latina Film Commission ha voluto darvi questo che è di un autore di Latina molto bravo molto votato che si chiama Dino Catalano io lo farei anche vedere perché a Valentina Carnelutti Latina 20 giugno 2013 oggi è il 20 con l'augurio di vivere la vita puntini puntini che sono importanti con tutta la consapevolezza di vivere e questo proprio è bellissimo grazie davvero grazie invece invece il festival piccolo piccolo ti vuole dare questa piccola cosa artigianale a proposito di artigianato tu puoi anche rimettere tutto dentro la salutiamo avete visto che è una bella persona io volevo essere sicura che si trattasse sì infatti abbiamo fatto un po' di carteggio per approfondire la cosa abbiamo verificato sì sì abbiamo verificato l'adoro una persona adorabile grazie grazie